Buonasera Buonasera Marika È la prima volta dalla psicologa? Sì Beh, lei doveva essere qui alle 19.15 La puntualità è fondamentale Sì, mi scusi, mi scusi dottoressa Che ho fatto tardi alle prove Ma sai dottoressa, sto facendo uno spettacolo Che è un po' come un matrimonio Si entra in crisi Comunque dottoressa Io non è che volessi proprio andare nel paese dei balocchi Ma era quello delle meraviglie Dottoressa, sto bagionando Non mi siedo Dottoressa Io ho una vita molto frenetica Sa, faccio musical Dottoressa Io sono ossessionata Non riesco a staccare dal mio lavoro Come le dicevo, faccio musical Interpreto tantissimi personaggi E questi si possessano di me Dottoressa Io mentre le sto parlando Sento un violino nella mia testa Sento le voci Sento i passi sul palco scenico Gli attori si preparano per la prima Il sipario Si apre Il pubblico applaude Sport Su di me ovviamente E sai C'è una stella La su Che Si nasconde Nell'uomo Si affaccia Mi si accende Un'idea Ed è lei Che mi dà Fantasia Lei Che mi dà L'energia Si accende E poi Mi porta via E vivo Sì Sì Bello Molto bello Grazie dottoressa Ho finito di provarlo prima Sì sì Mi siete Cari Passiamo alla quinta domanda Sì A 5 6 7 8 A 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 S' A A A A A Ho capito. Lei ha una banalissima sindrome da musical. Ed è contagiosa. Assolutamente sì! Eh, ma allora tutti insieme, dai, scuole le mani, su, forza. E... E... Sì, qui con voi sto proprio bene. Con il ritmo che fa così, qui con voi sto proprio bene. Grazie. 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 Grazie.